ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video noi siamo la triforce plus quest'oggi su mario maker 2 in compagnia di paschi ciao ragazzi eccoci qua pronto ragazzi a giocare i miei nuovi livelli che non ha fatto un'altra volta che mi è rimasto in sospeso quindi andiamo subito a vedere i livelli che paschi sceglierà per questo episodio vediamo vediamo prima di iniziare ragazzi vi ricordo sempre di lasciare un like al video di iscrivervi al canale e se volete acquistare questo gioco o altri giochi per tutte le console per tutte le piattaforme per tutte le piattaforme del mondo playstation 1 2 3 4 5 switch 1 2 3 4 5 pc 1 2 3 4 5 guarda qui sotto il link in descrizione di isa gaming ragazzi con un piccolo sconto e così da supportarci il nostro canale sopportate anche noi ragazzi ma andiamo avanti come allora abbiamo fatto questi bellissimi livelli lo scorso episodio molto molto bene adesso dovremmo fare missione re e non the cave sono molto curioso come di scoprire cosa hai combinato mi hai consigliato di non fare questa che potrebbe essere a video potrebbe durare tipo un'eternità o di più quindi andiamo con missione di recupero ma vediamo un po che c'è scritto svolgere missione con successo per procedere capito io tutti quanti gli indizi prima di poter cominciare il livello diciamo così perfetto un bar acqua vediamo subito questo è un mario un altro super mario super mario world ok quindi è uno stile diverso rispetto agli altri conta che super mario maker ci permette di ok di cadere giù per utilizzare diversi stili e questo è una nuova allora questo qua questo super mario qui mi piace non è non è male ma seconda che da molti è considerato il miglior super mario di sempre è bene bene molto molto bella allora qua per capuzola sbagliata ma ormai sono un pro a me raga vieni da due episodi ma orca io ho lasciato quel blocchetto c'è un bello potrebbe essere utile diciamo allora qua sappiamo che il boom mi ha insegnato nello scorso episodio no due episodi fa me ha insegnato che facendo così il tuo un po non mi fanno forse nello scorso episodio baschi orca mi sembra come si fa ok e mo devo capire un attimo qui come fare la situazione però già sembra missione recupero quindi qui devo recuperare le quattro chiave allora io devo fare così bravo ma devo buttare la aspetta no perché no però ho capito ho capito ok ok è bellissimo bellissimo bello bello questa parte ulmo complimenti poi hai capito una cosa baschi prima non so se l'hai fatta apposta però non ho visto no sono soldi ma forse ho capito di calmarmi una esatta che se stai così è calmato una euro fuori come uscire la rincorsa così vabbè mi intendevo questo però chiamo baschi che l'intenzione di fare due livelli che sono abbastanza lunghi nel caso riesce a farlo un breve tempo un mediano tabile vediamo di farne anche un terzo da dire abbastanza aggine in urdala si controllo che se ci siamo 4 maschi la chiavetta e la rosa blu sulla pelle tua ok adesso dobbiamo tornare indietro sicuramente andava anche però qua devo stare attento che se cado o mamma mia mi fermo più a me che mi ferma devo fermare tu un brutto brutto mela un fungitino un pov mi servirà o non mi servirà direi di andare subito qua a scherzi pensare ok quindi mi servirà questo pov mamma mia come sono diventato usa la tecna di prima cala bravo aspetta a me mi serve ma non c'è un check point bisogna stare attenti quel check point nell'area ciao amico mio ciao però basta vedi la che ti serve la missione recuperi intendeva proprio una porca va buttando presto cioè che poi non me ne faccio adesso dovrei recuperare qualcosa che mi faccia spieghiamo il primo recuperano appunto le quattro chiavi rosse che già è fatto adesso la missione recuperare il p c'è non prendete conduce tutto uno studio e qua prevede una rottura di giochi credibile da parte dopo a schiacciare cariche un po particolari con la nostra perfetta eccolo poi di greco adesso puoi salire solamente se sei mario che non so quindi dovresti lasciare andare il pini per morire prima di morire ok ma hai capito cosa fare ok però non tanto cosa ho capito cosa fare però cioè se attivarlo già adesso o no però più vicino sto meglio è credo per attivarlo diciamo che cosa ne siete a tempo bravo o attenzione o che baschi ci sei vicino aspetta 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 ci sono un buttato ci sei vicino che si spiega c'è una piccola cosa c'è un piccolo spirale metto qua no 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 ricordino di cori porca merda che si si attiva la rigura ecco lo rompe lo rompe lo ha rotto non è pensato per essere fatto così livello ok pensa quel razetto rosso che dà un fastidio donna mia ok baschi rotti il livello che non dovrebbe essere fatto così che adesso dove fatti di coppia tipo no ma schiavino attivarlo più sopra ok però hai trovato il modo ok hai trovato il modo giusto di romperlo posto adesso se lo butto qua lo messo traverso giù perché saltato vabbè però ci sei ci sei tanto mondo è arrivato era zetti da rimanile piano piano ok 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 ragazzi come quello era l'unico check point l'unico c'è che voglio ancora lungo livello non è l'unico nel mio non è l'unico devo entrare quando c'è infatti a check point diciamo che ho salvato da quel punto alla data subito cerca di rompere baschi pieni perché diciamo che il foglietto potrei conservarlo questa buona bellissimo è una bella meccanica che ho visto baschi secondo me ci sta un sacco giocarli in questo modo bellissimo devo fare il percorso si bellissimo che idea gulmo grandiosa questa sì che bello io sono poco bellissimo adesso dovrei recuperare un qualcosa quindi c'è una freccia baschi direi di non entrare così sinceramente non mi conviene perché il recupero è proprio quello e da così non vuoi prenderlo quindi devo morire infatti ti ho messo una bella freccia una rossa a buttare un lecine ok ok qua e dobbiamo recuperare questo frammellico tempo ottimo una vita per me merita di sia vaschi direi no 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 oggi credo che l'hai fatta e vabbè sono ancora buono portate a vivere qua e tenere il funghetto era buono tutta cosa giocava da roba non lo so più ha fatto al fai strike questo tamponino ok mi serve qua mi serve qua ragazzi diciamo se quasi grande quello c'è l'escovo passato da piccolo devi fare il salto preciso vabbè si può fare però sempre un po il livello sai che non lo so attenzione maschi ci prova sai che non lo so secondo me ci provo a rompere il livello di bulbo c'è pur di non per il livello aspetta però aspetta un attimo bulbo tiro un po il livello culmo tico un po il livello però non era natura è vero aspetta come ti rompo il livello che la tartarocchia o rompe culma rompe il livello di bulbo ragazzi mamma mia però diciamo il metodo non era questo che andare nel tubo ricoperare il trampolino e poi saltando esatto vedere però io ho ruolo di romper i livelli grande vaschi quindi primo livello fatto dopo circa un quarto d'ora come prima ci stanno ci può stare adesso puoi passare al secondo nel caso se vuoi farete che gli mette la crema nella modo giusto per fare l'altro però come ti dico subito che questo livello mi è piaciuto tantissimo soprattutto per la meccanica del palloncino il percorso da fare anche se poi loro però molto molto bello ti do un bel 10 o il massimo vasco perché ha una difficoltà medio alta diciamo poi il fatto di dei recuperi e cose tutte queste cose qua e il palloncino molto molto forse secondo me sarebbe stato un 9 ma quel palloncino mandato in dici esatto esatto allora vediamo the cave culmo questo con link pensato apposta per te sapendo quanto ti è piaciuto zelda allora do 9 a quello metto a 10 a questo vediamo vediamo potrebbe anche l'uverti coglioni bellissima che hanno messo zelda all'interno di superman molto bene solo che non so usarlo questo problema allora abito ha scoperto l'arco quindi senza che devo dico se premi verso il basso rimette lo so che se premi verso l'alto ma e poi premi y non ti genera la bomba in questo livello come l'altro essendo in old style diciamo che ti rende più difficile non potente arrabbicare i muri direi di non prendere quella spada potrebbe servire con l'infamità sulle tartaruchine che hai paura adesso che devo fare? entrare al tubo? no c'è quel blocco vedi che è possibile rompere attraverso la bombetta ok bello bella che esce la musichetta quella di zelda l'hai rotto ma non l'hai rotto ancora il livello non so se qua è rompibile non penso sia rompibile qua che là la meccanica del palloncino mi ha portato a romperlo è vero non ci ho provato nemmeno io ma io però è bello vedere come giochi tu rispetto a come l'ho pensato io è bella è quella la cosa bella di Mario Maker perché comunque è un livello creato da te qua se ci ho fatto caso ti raccolto già una moneta rossa forse senza accorgere no no non me ne so accorgere hamniej ha ok perfetto quindi devo prendere l'altra con l'arco arrarrarrà perfetto ok adesso ho qui la bomba for mai sono bravo ah zelda bellissimo well eh va bene perfetto va bene allora vediamo qua se c'è qualcosa di buono per me sì ma almeno per farti le wurde è soprattutto già si intravede qualcosa O mio dio Sproverò è no porca miseria C'è un checkpoint Eh però Porca miseria tutto da capo Raga Se volete un gameplay di zelda raga Non dubitare non abbiamo breath of the wild Se vi interessa Se volete qualche Voi consigliateci anche noi abbiamo tanti giochi per la switch Ragazzi quindi se volete vedere qualcosa Scrivetelo qui nei commenti eh Qua devo stare attento a questo Ah ok devo saltare Combere un sorso di vino Diciamo che zelda è molto utile perché ti protegge Attacca molto molto Io quel guscio lo lascerei lì Bravo bravo è una cosa migliore da fare assolutamente Perfetto paschi C'è la spada di zelda qui raga Quindi servirà Hai rotto già il livello Già ho rotto il livello Hai rotto il livello Non era pensato per quello però vabbè Ok perfetto Ci sta Adesso Boss di giornata paschi Ok allora Ti avviso non sarà l'unico Porca miseria Giustamente zelda Stunna Tipo un dungeon Esatto Bellissimo Che genio del male Che gulm raga Attendo che viene Attendo che viene Oh Porca Oh No Lo uccide E ti ha dato la chiavetta Per procedere paschi Ok perfetto Qua c'è il signor zelda Ti ha Qua Quella ti serve paschi Direi di usarlo e correre Ma è vero Esplora 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 Vediamo Vediamo Qua non si può salire Tipo devi salire per suicidarti Ok quindi qua devo premerlo Ok E si blocca la mia qua Ah hai capito Oh Oh Non la prende Non la prende Oh Ah No Hai capito Hai capito Hai capito Hai capito Ok devo scassare il muro lì Però Oh Che c'è di tutto qua Ce la faccio raga Sono zelda 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 On the world Vabbè vabbè Sono l'insco cazzo Usabu E mo Ok Ha Perfetto quasi Ha Il super boss La rosa Curm Direi di prenderlo Ho perso Non hai perso Però Porca mila Che cacchio Porca miseria Curm che è qua Un attimo raga Che mi ambiento Un attimo Curm il boss finale Quello è il boss finale Diciamo che l'hai fatto Abbastanza easy Dai dai Ma io sono zelda Cioè voglio dire Mamma mia che zelda Ragazzi Che link LinkedIn Se sta guardando questa live Che è un video Mi raccomando Pulmo Comunque sempre una connessione di merda Esatto Anche tu se vuoi Eh? Lo so Ok Allora adesso qui Faccio direttamente così Pulmo Si ormai capito Ok 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 La spada non la prendiamo Potrebbe servirci Invece nooo Mamma mia Quindi Pulmo tu mi consigli Hai messo la rosa Per ingannare o Quello Dipende con quello Con cui trovi meglio Paschi Si senti che trovi meglio Con Link Forse è meglio la rosa Dai proviamo vediamo Super Mario Link Il problema ragazzi Ci sta con l'altro Sputafuco Che da l'altro si trova il piano di sopra il suo come Come cazzo c'è andato Sempre tre botte gli dai da Paschi Mi ricordo tre botte Adesso stunna Io mi alzo Faccio così Gli ho una botta Ok l'ultima botta Paschi L'ultima botta Ok salto Mamma mia Mamma mia Mamma mia Super Paschi Super Paschi Man Ma che cos'è Porco culmo Ce l'ho fatta In soli dieci minuti Paschi Mamma mia Sono un power Ormai Sono diventato power Più livelli faccio Mamma mia Alto livello perché Paschi Adesso secondo me Puoi provare anche un altro livello Non quello però A parte il castello di Borja Ok me l'ho deciso Uno più veloce Più facile E ci l'ho movimentato Però l'altro è molto divertente Vedi tu Il più veloce Quello più veloce Se mai potremmo fare Questo il castello Insieme a ci l'ho movimentato E adesso fare Il tempo Ne crederò Ne voglio dire Vedi tu Quindi salti celesti E' fattibile diciamo Si si è fattibile Ci ho messo poco tempo per farlo Tipo Tu quello Io potrei farlo A questo livello Dopo che hai fatto 10 minuti Questo qua lo puoi fare Allora andiamo con salti celesti Ragazzi Ultimo livello per noi Non hai letto la descrizione Cazzarola Ed era precisione Ti servirà Precisione ti servirà Perfetto Allora il gioco è Super Mario Bros Ok Che c***o La funzionalità della ghianda E se premiamo il grilletto No Quando sei in salto Uh E' plani Se salti e plani No pure se non premi I plani comunque Se salti solo e plani Vedi Ok Adesso ho perso tipo eh Sì Però è così il modo in cui va fatto Ci sto Ci sto Ci sto Non ci sto Che c***o Che c***o E' sagrappo Porca miseria Siamo cercando di usare sempre power up diversi E' un po' di più Un po' di più devi salire Bravo 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 Bravissimo Ehi Perfetto Ma c'è un checkpoint Sì Dopo questo C'è un checkpoint Dopo questo Ma non attacca Non fa niente questo Mi serve Non posso perderlo No Puoi anche perdere Ma ti conviene tenertelo Che cupa Ti vieni telo che ti servirà Vedi devi attivare quei blocchi russi Ah ok perfetto Usando cupa No Esatto Signor cupa per piacere Ok Perfetto Ma qua c'è c'è poi Ottimo No non è vero Che c***o sono state munite C***o le mani di ghiaccio che si squagliano Wow Bellissimo Oh Ok devo fare tipo Da trampolino Tuomp Tipo Sì esatto Quello è lì vero Va signor Tuomp Signor Tuomp Signor Tuomp E porca miseria signor Tuomp Rompe il livello Oh Ok vuoi favore senza tuomp Vai E' rotto il livello E' ci sa tuomp Oh C'è quante Sì C'è quante Ok dopo questo vas che non c'è più niente da fare E con la moneta si può prendere In qualche modo diciamo Vecchia volpe Ok Ok Finito Ho perso Si Ascensore non esce di nuovo Mamma mia Oh Come c***o c'è di con la Eh Questi sono i salti celesti che devi fare Quindi devo correre come un pazzo Alla paschi tu sai che con questa versione di Mario più corri puoi fare triplo V Ok ho perso minuti Bravo Wow Nooo Bellissimo però C'eri 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 Ci sto ci sto ci sto Ci sto ci sto E' finito qua perciò ho detto lo puoi fare Ya Uhuh YUPI E' giusto Però Mi sono ancora fatto Vieni con me Ci sto ci sto Ci sto È portato nell'oblio Ya Uhuh Ya YUPI Nooo Nooo Però dovrei comunque saltare perché se non salto là Cioè Cioè dovevo risaltare Hai risaltato sul trambolino Ha Uhuh YUPI Ha Ha Hai salvato il trambolino Ha salvato il salvabile YUPI Dai Sei musciato Vavi Ma perchè si ammuscia Che rallenti Torni un attimo indietro Non devo tornare indietro Posso tornare indietro? Devi riletto un po' Siiii Porco culmo I livelli si finiscono in silenzio Si perchè devo concentrare Molto molto bello anche questo Molto veloce Eh ci sta Bello 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 Si Allora quindi abbiamo detto Dieci Eh non mi ha detto Zedda che devo fare? Devo dare nove Cioè Però don nove a Zelda perchè questo qua la meccanica mi è piaciuta molto Ok Diciamo di raccogliere Di fare queste cose qua Un palloncino Zelda don nove perchè Zelda Mi piace molto la meccanica sempre di Zelda Il livello era abbastanza Non difficilissimo però Sempre medio alto Questo qua Molto più divertente Veloce Sempanico E dinamico Si si molto molto bello Bellissimi livelli Raga Gulmo Vedete che fantasia di un gulmo ragazzi che c'ha Quindi baschi I prossimi livelli saranno potenzialmente Il mitico castello di Bowser E poi Ce la può diventare Esatto Poi è molto easy Ci saranno anche altri Creerò altri livelli La sua fantasia Creerà altri livelli Poi adesso vi lasciamo anche i codici di questi livelli qui ragazzi se volete giocarli Ricordiamo sempre che se volete che giochiamo i vostri livelli Scriveteci su instagram ci lasciate i codici dei livelli qui nei commenti Andiamo a dare i codici paschi il primo livello è stato missione recupero Molto bello questo Ecco qui il codice 5% 1,5 quindi non è proprio bassissimo Poi abbiamo the cave Livello con zelda Bello Questo qui il codice Record 10 minuti Pischia E infine abbiamo fatto salti celesti Come abbiamo seguito l'ordine Molto molto carino E questo qui è il codice ragazzi Segnatevelo Non lo so Stoppate il video In ogni caso Questi qua erano i livelli di oggi Giocati da paschi Nei prossimi Ne andrò nel prossimo tempo Quando non ci vediamo Creerò altri livelli paschi Per farteli giocare Vedere Quanto sei diventato bravo E faremo ovviamente il mitico Castello di Bowser Che attendiamo con ansia Quindi ragazzi Vi invitiamo a lasciare tanti like qua sotto Commentate Qua sotto Se avete giocato i miei livelli Anche quelli passati I livelli che avete giocato Anche il voto Potete darmi tranquilla E sono curioso di vedere Più o meno come la pensate anche voi Per questo video possiamo dire che è tutto E quindi noi ci vediamo nel prossimo paschi Ciao ragazzi Ciao